Record su record per il nostro export. Sono appena arrivati gli ultimi dati e ci dicono che nei primi dieci mesi di quest'anno abbiamo raggiunto 423 miliardi di valore assoluto delle esportazioni di made in Italy. Così su Facebook il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. È una cifra mai vista prima, che supera quella dello stesso periodo del 2020, 356 miliardi, ma anche i 402 miliardi dei primi dieci mesi del 2019, finora considerato l'anno del boom. Si conferma anche che stiamo facendo meglio di grandi paesi come Germania e Francia. Possiamo dirlo. Ora siamo concretamente proiettati verso il nostro obiettivo, superare i 500 miliardi nel 2021. Nel frattempo continuiamo a lavorare sodo. Ai 5,4 miliardi già stanziati con il patto per l'export abbiamo aggiunto, con l'ultima legge di bilancio, per ognuno dei prossimi 5 anni, un miliardo e mezzo per rifinanziare il fondo 394 e altri 150 milioni di euro sul fondo per la promozione integrata, ha sottolineato il titolare della Farnesina. Continuiamo ad alimentare questo circolo virtuoso che supporta i nostri imprenditori sui mercati esteri, fa aumentare le vendite di prodotti italiani, porta ricchezza nel nostro paese e favorisce nuove assunzioni. Noi ce la stiamo mettendo tutta e i risultati sono dalla nostra parte. Quando l'Italia si mostra compatta verso un obiettivo comune, si riesce veramente a dare il meglio. Corriamo verso il pieno rilancio economico, ha concluso.